Dopo 25 anni dall'omicidio, i carabinieri di Agrigento e i magistrati della direzione distrittuale antimafia di Palermo hanno individuato l'esecutore materiale dell'uccisione di Diego Passafiume. L'uomo era stato freddato proprio nel giorno del suo anniversario di matrimonio, il 22 agosto del 1993 a Cianciana, piccolo centro dell'Agrigentino. La vittima, nessun imprenditore 41enne nel settore del Movimento della Terra, mentre alla guida della propria auto era stata attinta da alcune fucilate. Sparategli da un ignoto che si era subito dileguato con altri complici a bordo di un'autovettura. Durante le immediate ricerche i carabinieri ritrovavano in fiamme l'auto utilizzata dai killer. L'autopsia confermò che l'imprenditore era stato colpito da tre fucilate, di cui uno in pieno volto. Le indagini sin da subito si mostrarono alquanto difficili. Venne privilegiata la pista che portava ai subappalti, settore in cui era ben inserito il Passafiume. Dalle indiscrezioni allora raccolte era emerso che l'imprenditore non aveva voluto piegarsi alle regole imposte dalle cosche mafiose, in ordine alla spartizione dei subappalti nel settore del Movimento della Terra e del trasporto di inerti. Dopo una prima archiviazione dell'indagine a carico di ignoti, l'inchiesa era stata riaperta grazie anche ad alcune dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. La morsa degli investigatori del reparto operativo di Agrigento non si è mai allendata, infatti il cold case è stato risolto grazie alla raccolta e all'ingrocio di alcuni indizi raccolti nel tempo. La vera e propria svolta nell'indagine si è avuta nel luglio del 2017, allora quando i militari dell'arma, coordinati dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Palermo, hanno acquisito determinati indizi di colpevolezza nei confronti di un individuo sospettato di essere l'esecutore materiale del brutale omicidio. In particolare, grazie ad alcuni album fotografici esibiti ad alcuni parenti della vittima che all'epoca avevano assistito alla tragica scena del delitto, i carabinieri hanno stretto il cerchio dei loro sospetti nei confronti di Filippo Sciara, grigentino 54enne già affiliato alla famiglia mafiosa di Siculiana, coinvolto anche nella nota vicenda del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo. Gli elementi di prova raccolti sono stati poi confermati anche dalle convergenti dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, Salemi Pasquale, Maurizio Di Gati, Giuseppe Salvatore Vaccaro, anch'essi in varie circostanze arrestati dai carabinieri di Agrigento, secondo i quali è emerso che l'omicidio fu commesso nel contesto mafioso territoriale in quanto Diego Passafiume, era ritenuto un imprenditore scomodo che faceva troppa concorrenza alle dinamiche mafiose. E così, nelle ultime ore, su ordine della Direzione Distrittuale Antimafia di Palermo, i carabinieri del reparto operativo di Agrigento hanno eseguito nei confronti di Filippo Sciara l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal CIP del Tribunale di Palermo per il reato di omicidio premeditato con l'aggravante di aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.